Amici in tre minuti abbiamo qui Samuel Pietrasanta direttamente da The Voice Italia, anche da Sanremo Giovani, è stato addirittura in finale. Oggi sei qua per l'Utri di Maio, è una festa sentitissima qua a Canicatì, perché appunto è sadissima cocifisso. Com'è andata? È stata una serata molto piacevole, ho trovato un pubblico molto accogliente e non vedo l'ora di ritornare. Avevi già visitato Canicatì prima d'ora? Sì, sono stato un paio di volte a suonare in qualche locale qui. Pensi di ritornare presto da queste parti? Assolutamente, chiamatemi che io torno volentieri. Tu fai soltanto cover italiana o ti sei anche direttato in English, insomma, nelle altre lingue? Faccio anche canzoni inglesi, dipende un po' chiaramente dal pubblico che ho davanti. Stasera è un ambiente da festa, quindi dovevano cantare, dovevano divertirsi, ci siamo divertiti, è stato bello. Un saluto a tutti voi, grazie e alla prossima! Ciao! 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 Ciao!